Grazie, sono io che ringrazio te Fulvia per veramente l'impegno, ringrazio Davide Dormino per questa opera d'arte di coscienza, perché abbiamo bisogno di svegliare le coscienze dall'indifferenza veramente in cui siamo piombati, come dice bene Gali siamo veramente degli zombie col telefono in mano e non riusciamo neanche più a riconoscere la sofferenza degli altri e allora è importante conoscere chi è Julian Assange, un uomo, un giornalista, un attivista che da 14 anni non cammina più da uomo libero per la strada, non perché è un criminale ma perché ha detto semplicemente la verità e ci ha fatto conoscere quella che è la reale faccia della guerra, che non è andare a tutelare i diritti umani, che non è andare a stirpare il terrorismo, non è tutelare le persone più fragili di cui non gliene frega niente a nessuno ma è alimentare il business, il complesso militare industriale che detta la politica di quelli che sono gli stati europei, compreso il nostro, per questo lo vogliono fare fuori Julian Assange perché ha rivelato quel potere oscuro, occulto che non si può rivelare e con che cosa? con prove, con fonti e non a distanza di 20 e 30 anni in cui è difficile risalire alla verità ma l'ha fatto in tempo reale facendoci conoscere esattamente la vera propaganda pellicista che deve rimanere nascosta perché comporta il sacrificio di esseri umani, di persone inermi come sta avvenendo nel conflitto israelo-palestinese, sveglia, svegliatevi, io ero due mesi fa al valico di Raffa, io c'ero lì, volevo entrare a Gaza, non ce l'ho fatto ma ero al confine, ho visto ho visto quello che succede, ho visto quello che non racconta una stampa che non fa più il suo lavoro gente che muore oltre 35.000 esseri umani, morti, inermi, bambini, bambini che possono essere mia figlia bambini, potremmo essere noi un giorno a portare i sacchi con i pezzi dei nostri figli dentro potremmo essere noi e allora dobbiamo guardare in faccia tutto questo perché quello che ho visto è 1500 camion pieni di aiuti umanitari, cibo, medicine con all'interno una popolazione che sta morendo non solo sotto alle bombe ma anche per la fame usata come arma di guerra, arma di guerra, fame e sete e per le epidemie e voglio che sentiate epidemie come la diarrea che si curano come con un'aspirina con dell'antibiotico, un bagno ogni 600 persone, un bagno ogni 600 persone, non ci sono assorbenti per tamponare e sangue, non ci sono assorbenti, non si possono lavare, usano pezzi di tende tagliate, le lavano nell'acqua sporca, infezioni, 50.000 donne stanno partorendo tra la sporcizia, i detriti, i bambini nascono già orfani, questo ci ha permesso di sapere, sempre Giulia Nassange perché è questa la reale faccia della guerra e allora iniziamo a essere tutti noi dei servitori di Stato, iniziamo a riscoprire un alfabeto gentile delle emozioni, iniziamo veramente ad abbracciare questa sofferenza e che cosa fare? facciamo delle cose concrete, io in questo momento sto prestando un servizio temporaneo allo Stato, temporaneo, perché dove sono io ci potreste essere anche voi e i palazzi del potere non sono su Marte ma sono a pochi chilometri da un treno e tutte quelle persone che sono dentro quei palazzi di potere hanno delle email, vi invito a scrivere a quelle email, la mia email è ascari-schioccialacamera.it, basta che guardate potete scrivere e pretendere il rispetto della Costituzione che all'articolo 11 ripunti alla guerra, iniziate a parlare con i rappresentanti che non sono su Marte, non sono su Marte, sono qua, io sono qua e allora pretendiamo per Julian Assange il riconoscimento della cittadinanza onoraria ovunque, siamo cittadini, siamo sindaci dei nostri territori, stimoliamo i nostri amministratori, scendiamo nelle piazze, informiamoci, conosciamoci, abbracciamoci e guardiamoci in faccia e soprattutto Assange ha fatto tantissimo per noi e noi dobbiamo fare tantissimo per lui perché non può essere un crimine, rivelare un crimine, non può essere un crimine il giornalismo, non può essere un crimine parlare di pace ed essere in banca d'aleato ed essere attaccato nelle amole istituzionali con attacchi squadristi, difendiamo questi valori, la libertà di informazione, di espressione, uniamoci, ritorniamo ad essere umani, grazie. Grazie.